scusate cari amici ho avuto qualche intocco quando stavo registrando prima riprendo adesso stavo dicendo la new basket brindisi supera 78 53 la fortitude bologna nella seconda semifinale della coppa italia del massimo campionato italiano di a1 di pallacanestro maschile la cronologia incontro dice primo quarto 23 a 12 il secondo 45 24 il terzo 64 37 l'ultimo 78 53 quindi il tabellone dice che questa sera venezia e brindisi si giocheranno la finale per il primo trofeo stagionale alle ore 18 ricordo in diretta su rai sport in chiaro sul digitale terrestre il canale 57 del digitale terrestre presso la vitfrigo arena di pesaro e chiudo quindi il video ribadendo la new basket brindisi batte la fortitude bologna 78 53 accede alla finalissima contro venezia e nell'altra semifinale eliminato sorprendentemente milano seppur di poco diretta su rai sport in chiaro sul digitale terrestre senza pagamento gratis alle ore 18 ciao a tutti